La poetica di Marrani, visto che di poetica si parla circa il suo percorso, in quanto equilibrata e terribile nello stesso tempo unione di forma e materia, per versi e per immagini, lavora sul pesare i toni, i timbri, la ritmica, selezionando una campionatura di suggestioni che toccano il concreto, lo scarno, nella parte più inferica. Pausano poi lo sguardo e il suono e improvvisamente, vertiginosamente, ascendono ad un iperrealismo oggettivo quasi da incubo, come soltanto il qui e ora della realtà sa essere. Basterebbe guardare il suo uomo in una stanza, in copertina, lo sguardo di Marrani lavora fondamentalmente sull'atroce, ovvero sull'altro come inizio di un incubo atavico e ancestrale, o meglio la flebile luce che passa attraverso i suoi versi e la speranza di un nichilismo attivo, concentrato genomaticamente nel porre in atto e potenza l'imperativo categorico del distruggi, consuma, crepa.